I nostri governanti si sono venduti all'Occidente distruggendo la nostra cultura, la nostra economia e l'onore. La nostra terra tinta del nostro sangue e il mio sulle loro mani. Sono degli invasori. Tutti i contingenti user britannici devono lasciare subito la Russia e pagheranno le conseguenze. È semplice, non riprendiamo la base missilistica o da domani vivremo in un nuovo mondo. Via libera Perano, sbagliate via. Secondo lancio in arrivo, squadra Bravo preparateli, via. Tutti da me. Dov'è Griggs? Non ne ho idea, signore. Bravo 6, sergente Griggs ha appena attivato il transponder di emergenza. 500 metri a sud ovest, passo. Arriviamo. Bravo 6, chiudo. Veicolo nemico davanti a noi. Bersaglio abbattuto. Avanzare. Nemico in vista. Bersaglio in vista. Buonanotte. Buonanotte. Area sicura. Di sicuro tengono Griggs in uno di quegli edifici. Entriamo dalla porta del seminterrato. Da lì perlustriamo stanza per stanza. Silenzio e muoviamoci. Stanza sicura. Stanza sicura. Passiamo al secondo. Griggs non è qui. Ricevuto. Raggrupparsi qui da me, di sotto. Ricevuto. Passiamo al prossimo edificio. Non fate rumore. Stop. Vai a controllare. Sta facendo giorno, non rimane molto tempo. Direi che ci siamo. Pronti a entrare. Via, via, via. Stop, libera Griggs. Forza. Giusto in tempo. Cominciavo a credere che mi avresti lasciato qui, ragazzi. Volevamo lasciarti qui, ma ci serve il tuo C4. Tutto bene? Sì, pronto ad andare. Abbattiamo la torre, così le squadre supereranno la recensione elettrificata. Elicotteri nemici. Avanzare. Charlie 6, la situazione? Passo. Qui squadra 2. Siamo alla recensione. In attesa che togliate la corrente. Passo. Ricevuto. Sob, piazza le cariche. Vai. Fai saltare tutto. Charlie 6, torre a battuta, non c'è corrente. Avete 20 secondi. Ricevuto. Stiamo facendo breccia. In attesa. 10 secondi al ripristino della corrente. Attendete. 5 secondi. Ok, stiamo dentro. Bravo 6, vi attendiamo al punto d'incontro. Passo. Ricevuto squadra 2. Arriviamo. Chiudo. Via quella recensione. Avanzare. Avanzare. Gas, prendi swap e gli altri ed esplorate la base. Griggs e io cerchiamo un'altra strada. Mi serve del fuoco di copertura. RPG, nemici, sui detti! Abbiamo in una trama. No, 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 no. Ricarico! Uomo a terra! Versaglio eliminato! Versaglio a sud da qui! Copritemi! Versaglio eliminato! Contatti a esto! No! Vedi, vedi, vedi! Vedi, vedi! 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 Selto! Attenti! Remigratori davanti a noi! Attenti! Ci sono degli RPG sui tessi! Grazie a tutti. Uomo a terra. 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 gas. Uomo a terra. 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 Uomo a terra.